Ferraris di Genova oggi si è veramente respirata serie A, ci ha provato prima Cesena, vedete come Martina è stato fortunato nel parare il pallone che gli ha passato Onofri e poi ci ha provato nel secondo tempo Genova e ci è riuscito, Manfrin ancora impegna il portiere Recchi del Cesena poi c'è ancora una bella azione del Cesena, guardate il lancio di Bonini, uno dei migliori giocatori in campo, il colpo di testa di Rocotelli, l'intervento di Martina e al 33esimo un colpo di testa di Boito, subentrato a Somma, porta in vantaggio il Genoa 1-0, un gol che a Genova dicono è veramente da serie A